Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. In un episodio avvolto nel mistero e nel dramma, il programma Zona Bianca ha portato alla luce dettagli inquietanti su un incidente accaduto durante la notte di Capodanno nella proloco di Rosazza, vicino a Biella. Secondo i verbali dei carabinieri, Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, era in stato di ebrezza quando dalla sua pistola è partito un colpo che ha accidentalmente ferito il trentunenne Luca Campana. I testimoni, la cui identità rimane celata, hanno descritto l'arrivo di Pozzolo poco dopo la mezzanotte, evidenziando il suo stato brillo. Pozzolo, interrogato dal reporter di Zona Bianca, ha evitato di rispondere, affermando di voler parlare solo con i magistrati. Questo incidente potrebbe portare alla sua sospensione da Fratelli d'Italia. Campana, davanti ai magistrati, ha negato di aver mai toccato l'arma, e le testimonianze raccolte sembrano confermare la sua versione dei fatti. La vicenda ha suscitato commenti anche da parte di Daniela Santanché, ministro del turismo, che ha sottolineato come ogni partito possa avere membri che commettono errori, ma le decisioni spettano al partito stesso. Ha inoltre distaccato il caso Pozzolo dalla classe dirigente di Fratelli d'Italia. Nel frattempo, Pozzolo persiste nella sua difesa, sostenendo di non essere stato lui a sparare. Durante una conferenza stampa, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato il deferimento del deputato alla Commissione di Garanzia dei Proviviri di Fratelli d'Italia, sottolineando l'importanza della responsabilità legale e morale nella custodia delle armi e invitando a una maggiore responsabilità. E tu cosa ne pensi di questa terribile vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Grazie a tutti!